Non si fermano mai, d'altra parte l'impegno è notevole, la produzione della grappa ufficiale della Dunata degli Alpini. Il prezioso distillato, preferito dalle pene nere, è realizzato in una piccola impresa di Azzano San Paolo in via Petrarca. Prodotte attualmente siamo in circa sulle 10.000-12.000 bottiglie e prevediamo che al termine della Dunata si possa arrivare a 15.000 bottiglie. Già, perché le distillerie Zini non sono nuove ad imprese del genere e conservano anche una vera e propria rarità, la bottiglia della 59esima Dunata del 1986 a Bergamo. La nostra realtà è presente sul territorio bergamasco da 35 anni, serviamo diversi rifugi nella provincia e già il fatto di aver collaborato in occasione della 59esima edizione della Dunata a Bergamo quest'anno ci sembrava d'obbligo presentarci e richiedere all'ANA una collaborazione per questa edizione del 2010. Una grappa speciale che sarà possibile assaggiare gratuitamente in Piazza Dante ogni sera dalle 20 alle 21.30.